L'accesso alle prestazioni sanitarie rappresenta una delle problematiche più rilevanti per la sanità pubblica. Sono ormai tanti i cittadini che lamentano ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami diagnostici e ricoveri oltre i tempi previsti dal piano nazionale delle liste d'attesa. Chi può permetterselo ricorre alle prestazioni professionali in intramenio nel privato a pagamento, tanto che la spesa annua per la salute monta a circa 38 miliardi di euro, mentre altri sono invece costretti a compiere enormi sacrifici o ancora a rinunciare del tutto alle cure. Le liste d'attesa restano dunque una delle criticità più gravi di una sanità pubblica in sofferenza che alimenta disagio e sfiducia tra i cittadini e drena risorse verso il privato. La salute dei cittadini non può aspettare ed è per questo che Feder Consumatori ha deciso di avviare la campagna nazionale Stop alle liste di attesa per informare e tutelare i cittadini sul loro diritto a ricevere le prestazioni di cui necessitano entro i tempi appropriati previsti dalla normativa sanitaria. L'iniziativa avrà inizio dal 26 giugno e si svilupperà sull'intero territorio nazionale grazie alla diffusione capillare degli sportelli di Feder Consumatori o tramite segnalazione online di disservizi subiti dai cittadini da inoltrare all'indirizzo mail Stop liste di attesa chiocciola federconsumatori.it La campagna nazionale ricalca quella lanciata a fine 2021 da Feder Consumatori Sicilia che naturalmente partecipa anche a questa iniziativa. I cittadini siciliani che stanno riscontrando delle difficoltà nel prenotare una visita medica in una struttura pubblica con tempi di attesa eccessivi potranno quindi comunicarlo a Feder Consumatori Sicilia scrivendo una mail con i dettagli a sicilia chiocciola federconsumatori.it Feder Consumatori ha inoltre avviato un proprio monitoraggio improntato agli obiettivi di rilevamento del piano nazionale di governo delle liste di attesa allo scopo di avere una mappatura autonoma ed aggiornata dei tempi di attesa in ogni regione, di individuare criticità ed eventuali meccanismi distorsivi e sollecitare le opportune tempestive soluzioni al fine di garantire ovunque e per chiunque il diritto costituzionale alla salute. Feder Consumatori intende aprire un confronto costruttivo con il Ministero della Salute e con le regioni per migliorare l'accesso alle prestazioni e rendere trasparente l'intera filiera delle liste di attesa anche prevedendo la partecipazione attiva e diffusa della rappresentanza degli utenti del servizio pubblico.